La Proloco, come sapete, è un ente di promozione territoriale e culturale e oggi qui con voi abbiamo voluto premiare una delle eccellenze del territorio, un imprenditore che si è distinto per l'impegno del volontariato e nella lotta all'illegalità. E' proprio questo che chiamiamo qui sul palco il dottor Daniele Manzo. Bravo! Un applauso! Manzo, la Proloco premia Daniele con questa targa, attraverso il suo presidente Antonio De Maria. Grazie, grazie. Mi rubo un bacio questa qua. Ringrazio la Proloco per il gentilissimo pensiero, tutte le persone che hanno partecipato a questo bellissimo evento, era da tempo che a questo World Tour non si vedeva tanta gente in un evento del genere e spero che se ne facciano tante altre. Grazie. Buon mattinato sta per concludersi, ma prima dei saluti finali chiamo sul palco Marco Baldassarre. Grazie. Che presenterà l'evento di Zumba con Clelia. Grazie, grazie. Sono qui per rappresentare ovviamente la Domizia Fitness e Contro Tempo. Quindi ringrazio ovviamente tutto il mio staff, a partire da Francesco Sebastiani, Clelia De Marco che dopo farà una grande esibizione di Zumba, Marco De Gregorio, Raffaella Baiano mia moglie, Nando De Angelis e poi la titolare della scuola di danza Contro Tempo, Sonia Masiello. Cosa dire? Lo slogan dice tutto, ovviamente. It's no a work, it's a party. Ovviamente questo evento oggi è la dimostrazione che lo sport può aggregare più persone, affinché ovviamente ci sia un miglioramento non solo di quella che è la condizione di questo territorio, ma affinché tutti lottiamo per migliorarlo. Il fitness poi è cambiato totalmente. Oggi dobbiamo fare un'esibizione di Zumba, che tempo addietro non si sarebbe potuta fare perché non esisteva. Zumba oggi è quello che è l'espressione dello sport, praticamente, della coesione, quindi tanto divertimento. Niente, volevo ringraziare ovviamente i vertici della Prologo, che ci hanno dato la possibilità oggi di portare questa esibizione in piazza e spero, insomma, in futuro di poter riprendere questa manifestazione, magari, che non lo so, un evento dello sport in futuro, insieme sempre ovviamente a voi. Vi ringrazio e vi passo la parola a Trelia De Marco, bellissimo, da Luca Mandieri, grazie. Voglio solo dire che oggi quelli che non potevano andare in spiaggia sono quelli che stanno in spiaggia. E noi, casi, mi più bella, stiamo curando il nostro bellissimo corpo. Viva la palestra di Marco e viva Trelia! Viva loro! Viva tutta la Prologo! Viva il Villaggio Coppola! Viva Napoli! Forza Napoli! Viva la Campania! 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 Grazie per la visione! 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 La Supabuena La Supabuena La Supabuena La Supabuena La Supabuena Sous-titrage ST' 50 1 La zumba buona 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 buona Isak dice che sono Inverto con testo Victor dimmo che io te guarde E quindi mi canto Siamo i campioni della salsa Siamo i migliori del sol Come io la niente canto la guarantza Come io la niente canto il corso Siamo i campioni della salsa Siamo i migliori del sol Come io la niente canto la guarantza Come io la niente canto il corso Si te quieres che se quiera mi dices E se te quieres un besito te lo doy E te pido che jamas me morti dices E nunca meno così è lo che sono Tu sempre ti regalo Ese soy io 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 Ese esatto Noi che suena tenderemo la tua cultura 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 Noi che suena me lo prego pa' ti te mangiare La gente me va a llamar, a mi me da la gana Si me chimpiame la radio o la televisión Si con el consigui de alguna que otra cancion No me diga che suena un guatino banchotero Que escuche mi querido, que saa lo que yo quiero Comproاح No me diga che suena tenderemo la tua cultura No quiero �ore Non No quiero ser tranquilo Es mi situacion Una desolazione Sono come un lamento Lamento o olvidare lo che un dia è preso Lo va a terminar E a nadie hace daño Oh 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 Yeah Yeah Io sono qui Corazzo e loco E il mio corazzo Idiota Sempre brillare E io te amare Te amare Por sempre Llenare di fredes In la cama E io te amare Perché Llenare di fredes In la cama E io te amare Se van a atrasar Bellissimo, vero? Ecco, che emozione ha provato, interessante E con Clelia ogni volta che si fa Zumba si prova l'emozione Ecco, com'è stata l'emozione per questo ballo, prego Non scappato, molto significante Un momento dell'estrazione Per l'estrazione Complimenti per la Pascia Zalla Il nono premio è una borsa leggea Leggera Pronti? Ecco il nono numero Estratto su Napoli Estratto su Napoli Camilla Russo Della Leggea Offerta dal Comitato Organizzatore L'ottavo premio è una pianta ornamentale Ecco l'esposta Eccolo Offerta da Il Fioraio Ambroccio Doviamo? Doviamo? Zumbolo Zumbolo Gangiano 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 Sesto premio Paio di Scarpe Emanuele Castaldi Emanuele Castaldi Quinto premio Quinto premio Anna Russo Numero 726 Numero 726 Quarto premio Mese di palestra C'era offerto da Domizio Fitness C'era offerto da Domizio Fitness C'era offerto da Domizio Fitness Quarto premio Pasquale Manica di Falciano Pasquale Manica di Falciano Pasquale Manica di Falciano Terzo premio Terzo premio C'era Presso il ristorante Cue Monelli Di Formia Emanuele Emanuele Sto pensando da Stagliare Silvio Ferretta Silvio Ferretta Castello al turno Numero 439 Secondo premio Tagliando per auto Offerta da Cipi Motori Metti bene Metti bene Eccolo 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 Giovanni Paraiola Giovanni Paraiola Numero 986 Si conoscerà Primo premio Vinci Offerta da Domitato Organizzatore Salvatore Chiariello, numero 410. Vi saluto e vi ricordo che l'Asso Commercianti Pineta Mare il 2 giugno darà via alla tanto attesa inizione dello Sport Day, quindi accorrete in massa.